Un convegno in via Verdi ha ricordato Dolores Feleppa Madaro a dieci anni dalla scomparsa. Figura centrale del Partito Comunista Napoletano, dopo l'ascissione del 1991 rifiutò la svolta centrista e contribuì alla nascita di rifondazione comunista. Fu interprete di battaglie per l'espansione dei diritti civili e per l'affermazione dei principi di laicità. Era una donna impegnata sui problemi più concreti della vita quotidiana delle persone. Questo è il mio ricordo più forte. Lei si occupava di tante piccole cose. Sapeva organizzare lotte, battaglie e poi era stata nella circoscrizione del vomero, ha fatto l'assessore, è stata nelle istituzioni, ma sempre a contatto con la realtà. Questa era la sua dote più importante. Un documentario di Simona Cappiello ha tracciato brevemente la storia politica della Madaro, che fu anche assessora nella seconda giunta a Ierbolino, testimoniando il suo impegno per le persone disabili, per i diritti delle donne, per il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Oggi abbiamo ricordato Dolores Madaro, una donna che ha dato tanto alla nostra città, si è impegnata attivamente per obiettivi irraggiungibili che lei sola è riuscita a concretizzare. L'attenzione alle persone disabili, alle diversità, alle minoranze, l'attenzione alle donne, l'attenzione ai più fragili. Dolores è stata un esempio ancora vivo nella nostra città e noi per questo ci vogliamo impegnare a ricordarla come esempio, come persona che potrà essere ancora presente tra le strade della nostra Napoli. È stato un onore per noi ospitare l'iniziativa promossa da Diana nel Consiglio Comunale e abbiamo voluto insieme a lei e a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscere, di lavorare con lei, di combattere per questa città, avere i diritti civili, delle persone più fragili, dei più deboli, a cui lei era tanto affezionata, legata, ha avuto l'onore appunto di ricordarla.